Leonardo Vitali, pensionato sancostanzese doc, una vita sulle strade a guidare tir in mezzo Europa, sacrificando anche gli affetti familiari, ma che grazie all'apporto esenziale della moglie ha dato buoni frutti e ora da nonno nella sua casa fuori paese con uno splendido affaccio sul mare si gode il meritato riposo. Ma Leonardo non è uno da stare con le mani in mano e da allora nel pezzetto di terra attaccato a casa sua coltiva la terra, fa l'orto e soprattutto da buon frontista tiene pulito il fosso e si dà da fare da buon cittadino ma recentemente è incappato in una spiacevole disavventura che gli ha lasciato un lamaro in bocca. Vitale, allora raccontiamo questa vicenda. Tu hai tagliato un albero. Era secco, prima di tutto ho chiamato la provincia, l'ho fatto vedere due anni e mezzo fa che quest'albero era secco cadendo delle rami, c'era una rama molto lunga che quando tirava il vento dal monte arrivava in mezzo alla strada e il signor Carloni di Mondolfo era responsabile qua della zona ma mi ha detto tagliala, prima che succeda qualcosa l'ho tagliato. Del 2013-2014 quando ho fatto quelle gelate brutte ha spaccato la corteccia di Stalbero e Stalbero si è seccato. Cadevano le rami sulla strada, ho fatto intervenire i vigili, mi hanno guardato, ho rami secchi, ha detto guarda fai permesso e lo togliamo. Però è venuto fuori un problema. Qualche signore o una signora o un signore di San Costanto, non so chi è, è impossibile saperlo perché nessuno fa i nomi, ha fatto un reclamo in provincia. Purtroppo un ente quando arriva il reclamo è costretto a venire a fare sopra il luogo. Ha visto lo stalbero tagliato, la maldonina lì sopra, sul territorio della provincia, ha detto guarda fai una cosa, togli tutto prima che succeda, un casino, dopo magari c'è qualcosa che non è regolare per andare a cercare i problemi. Io da signore ho tolto tutto. Gli ho detto la posso mettere sul mio territorio? Ha detto sì. Ma Vitali non è uno da farsi il fegato amaro, di cose in giro per l'Europa ne ha viste fin troppe e da allora corre subito ai ripari. La sua madonnina ora è nel suo terreno con tanti fiocchi rosa vicino. Ho messo su questa madonnina perché mi doveva nascere il primo nipote, era una femmina e mi piaceva metterla. Io so credente, metto su questa madonnina, aiuto pure la mia figlia a fare questa bambina senza nessun problema. Difatti così è successo, ha fatto questa bambina senza nessun problema, è andato tutto bene e sono contentissimo. E mi dispiace se adesso qualcuno l'oggi sta bene, anche sul mio territorio, tutto qua.